È stata revocata la squalifica di quattro anni che era stata combinata a Michele Santucci. La squalifica era scattata al termine dell'inchiesta sportiva che aveva portato anche alla squalifica di Filippo Magnini, ex capitano della Staffetta Azzurra. La revoca della squalifica è arrivata dalla seconda sezione del TNA che ha rispinto sia il ricorso della Procura Nazionale Antidoping che quello di Magnini per il quale la squalifica è stata confermata a quattro anni. Per lui a questo punto l'ultima speranza è quella di rivolgersi al TAS di Lausanne. Il ricorso proposto invece dall'atleta Michele Santucci il 20 febbraio 2019 avverso la decisione pronunciata dalla prima sezione del TNA il 6 novembre 2018, depositata con la motivazione il 6 febbraio 2019, porta invece all'annullamento della decisione impugnata. Una vittoria importante per Santucci che non era mai stato trovato positivo ad alcun controllo antidoping. La squalifica era scattata soltanto per una presunta violazione all'articolo 2.2 per uso o tentato uso di sostanze dopanti. Ora per fortuna la squalifica è stata revocata.